L'andrang ha mille orecchie, mille occhi. E' sempre presente per vedere, per ascoltare, tutto. Il tempo di vivere in Tendopoli quando il sole è troppo caldo e quando è freddo è troppo freddo. Se io vado in città a trovare, dicono no, 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 l'Africa lo vuoi. Adesso cosa devo fare? Sono stanco. Questa è la periferia del mondo. In queste baracche si incontrano le speranze dell'Africa e i detriti morali dell'Europa. Rosarno è al centro del Mediterraneo. Quello che oggi è la dolente espressione delle nostre contraddizioni. Un tempo lontano era il giardino rigoglioso della civiltà, la polpa succosa delle aranze, il gusto amaro delle olive appena colte, sudore, sangue e sfruttamento, terra, fuoco e brezza del mare. Un governo pensa per loro stessi, non per loro. Per un altro non pensa nessuno. Questa è la periferia del mondo, dove l'uomo ha piantato la radice robusta dell'olivo e ha costruito i giganti di ferro che solgano l'acqua. I morti vegliano la terra martoriata e i santi ne preservano le memorie mentre i banditi ne rubano l'identità. Gli occhi della piana hanno visto troppe cose. E' in silenzio, si alterna alle urna. Questa è la periferia del mondo, dove si rincorrono l'orgoglio e l'onta. E questo è il racconto della sua gente. Questa è la periferia del mondo. Questa è la periferia del movimento.